C'è il capitano! Nelzio! Vieni qua! Nelzio! Nelzio! Abbi la palla! Abbi la palla! Che cosa significa? A chi viene si sceglie la palla o il campo per attaccare? Da Nelzio che stanziano si butta giù! Uno, due, tre, quattro, cinque e sei! Che scegli? Battere o il pallo al pallone? Puoi battere! Siamo sottotabili! Cediamo la minuta della giuria! Questa è l'arbitro! Ragazzi! Ragazzi! Bambiola! Noi abbiamo con la forza! Sottolisionista! Cosa le compro? Sono via! No? Cosa le faccio? Sono da bronzare! Ma chi ha scelto la porta? Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Quante maniate! Il motivatore! Vieni qua! Vieni qua! Sì, vieni qua! Vieni qua! Vai! Vieni qua! Vieni qua! Grazie a tutti. 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 Ottimo amici, ottimo, ci siamo. Ottimo amici, ottimo amici. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Marta, non è. La scimmendo qua, la mucchetta nella palla e sta... Eiam! Interibile Carmela! Carmela attacca amici Prestigui! Ottimo, Cozzolino! Eh, ho ripreso, l'ho fatto a posta! Ottimo, eh! Stai, ho ripreso, non era zoomare! Un attimo, una riunione in mezzo al campo improvvisa! Ma cosa hai difensore? Cristiana, fagli male! Fagli male! Ok! Lei non sta andando! Il catenaccio si chiude, il catenaccio si chiude e non passa più nessuno! Grazie a loro! Vani! 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 Ragazzi! Vieni con questa vincita! Vieni con questa vincita! Vieni faccio una cosa a questi corpi A queste vincitrici Dove scappano? Scappano dove scappano? Vediamo! Faccio parlare di Cristiano!